vince la Juve perché mi ha convinto Svone, Vasquez è un passaggio per Gilardino da gol e lo fa basta, basta sciocchezze questo è il colpo basso questo è il colpo basso, peraltro sembra già un bambino mi avete dato per allenarmi insomma cari miei compagni di viaggio, tu peraltro prosegui con tutta la squadra di Sky Calcio Club grazie davvero a tutti voi i miei compagni di viaggio vi affido un figlioletto a Sky Calcio Show che abbiamo allevato insieme tutti insieme e ovviamente lo affido dal punto di vista del mio ruolo alle mani esperte di Alessandro Bonanno noi dobbiamo chiudere, Paolo grazie è stato un bel viaggio che riprendiamo ci vediamo tutti ci vediamo tutti, io vi seguo tutti Billy, Giancarlo, grazie a tutti voi, grazie a voi che siete a casa perché il vostro di affetto, la stima l'ho sempre sentita adesso è tempo di andare in campo con Palermo Juventus e grazie a tutti quelli che lavorano dietro per Sky Calcio Show faranno con Alessandro Bonanno, non sarà la stessa cosa ma io vi amo molto ciao